Nuova parte! All'attacco all'eschemico! Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde, la struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri. Ma che diavolo! Non ti ha riparo, Batman. Lui va a testa alta. È ora di morire, vecchio. Nella morte, non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalla East Chemicals. Avrai la tua vendetta. Venisse tutto stamattina! Questo qua chi sarebbe? Vestito così sembri tu, Batman. Preferivo i missili dell'elicottero. Porca pio! Volete la guerra, eh? Un amico tuo? Stai qui e andrò a scoprirlo. Porco, caro è un esercito. Oracle, chiunque sia ha radunato un esercito. Mi serve un nome. Abbiamo delle informazioni da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano quello stesso simbolo. Abbiamo solo delle ipotesi su chi li comandasse. Le varie fonti concordano solo sul suo nome. Il Cavaliere di Arkham. Il Cavaliere di Arkham? Sì. Ecritta le comunicazioni. Devo sapere cosa tramano. C'è dell'altro? Degli operai della East Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare lo spaventapasseri e la sua bomba. Devo trovarli. Ogni operaio avrà un suo cip identificativo. Accedendo all'archivio del personale potrò rintracciarli. C'è un terminale della sorveglianza in una cabina vicino a te. Prova lì. Ecco. Svelato il titolo del videogioco. Ci sono cinque soldati. Ognuno armato è pericoloso. Prima di poter accedere al terminale dovrò eliminarli tutti. Ma va, ma davvero! Ascoltate! Lo spaventapasser dice che la reazione è quasi completa. L'evacuazione finale della struttura inizierà tra 30 minuti. È iniziato allora. Così sembrerebbe. Questa è la parte che adoro. L'assalto a sorpresa. Gli elicotteri che arrivano dall'orizzonte e che fanno vittime il bersaglio. E allora come vai non sei su uno degli elicotteri? Ti ha fatto male qualcosa che ho mangiato l'altra sera. Stupidi razioni. Non sto ancora bene. Che sfiga. La più grande operazione di sempre. Io sono sotto la pioggia, fuori da una stupida fabbrica, a cercare di vomitare. Il comando dice che Batman potrebbe essere diretto qui. Forse avremo di che a divertirci. Magari lo ammazziamo noi. Mi trova. Va bene, siamo stati addestrati per questo. Occhi aperti per Batman. È raffo. E sa come nascondersi. Se il pipistrello è forte come dice il comandante. Che speranza ha chiamato. Pensavo mi vedesse. L'accesso al terminale è sicuro. Vediamo se Oracle aveva ragione. Quello sì che è un bel pezzo di computer. Mamma mia. Connessione dati attiva. Decodifica dati. Qualcuno dovrebbe aggiornare i protocolli di sicurezza. Eh, ciao. Cinque persone. Ah. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato posso usare lo scanner per trovare i lavoratori. Ok. Ci ho segnato sulla mappa la struttura più alta della zona. Non cadere. Ah. Perfetto. Posso attivare il BAT scanner e cercare i lavoratori. E lancio. Lancio. Sono riuscita a intercettare una comunicazione radio tra lo spaventapasseri e questo cavaliere di Arkham. Te la trasmetto. Ce l'avevo nel mirino. Potevo chiudere la partita. Non è ancora annientato. Ma ci manca poco. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Perché lo odi così tanto? Non sei mai riuscito a capire. La vendetta è vicina. Questa è la sua ultima notte. Me ne occuperò io. Hai idea di chi sia il cavaliere di Arkham? Pare che voi due vi siate già incontrati. Mi sono fatto molti nemici. Ok. Attenti a non cadere. Andiamo a salvare quelli per primo. Adesso sfondo la finestra. Buonasera signori. E' qui la festa? Per la camera che si era pagata. Non riuscivo a vedere quello che era successo. Ah, eccolo qua. Ok. Dov'è l'oper? No. Oracle, hanno ucciso un lavoratore. Diavolo. Dobbiamo fermarli. Senti, ho violato le comunicazioni della milizia. D'ora in poi potrai ascoltare ogni canale di trasmissione. Grazie, Oracle. So come entrare con la Batmobile nel complesso. Pagheranno per questo. Oh, e con gli interessi la pagheranno. Adesso ci penso io, Batman. Tu aprimi il cancello, io vado dentro e gli sfondo quel culo. Vuol portare dentro l'auto. Porta principale aperta. State pronti. Sta arrivando un carro armato da un milione di dollari. Abbiamo mandato un Diamond perché è il cortile principale. Lo distruggeremo. Sono pronto. Il tuo cannone da 60 mm penetrerà le unità corazzate. Ma ci vorranno diversi colpi diretti per abbatterle. Rotti in culo. Sto arrivando. Ma che cazzo? Guidi tu. Sistemati. Signore, ha sfondato la corazza, come aveva previsto. Sta cercando gli ostaggi. Mantenete al minimo le comunicazioni di Aglio. Stanno ascoltando. Stai ascoltando, mira Batman. Ma va? Allora ascolta questo. A tutte le unità schierate a Gotham. L'operazione Salvatore è iniziata. Ciascuno di voi ha un ruolo. Ciascuno di voi conosce il suo ruolo. Quindi prendete questa malattacità isolate. Dentro un'ora voglio le nostre mani strette alla gola di Gotham. Ciao, merdacce. Ah, che spari, va. No. Sei tutto mio. Aia, brutto. Ma sto... Ma la faghi. Eh, che cazzo. Se non mettono sti cazzo di samurai nei videogiochi. Non sono contenti. Eh. Fara di ball. Dai, forza. È il meglio che sapete fare? Dai. Eh. 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 Muori. Via. Volevi far qualcosa, eh. Con quella lama. Sai cosa puoi fare? Puoi tagliare solo il salame, va. Eh, cominciate a pregare. Perché adesso vengo a rompervi il culo. Batman. Mi cosa? Cosa mi fai? Cosa vuoi fare? Che roba, Batman. Che velocità. Rapidità e qualità. Aia. Ma co... Oh. Ma cosa puoi fare, va. Via di sta ginocchiata in bocca. Brutto coglione. Dov'è l'operaio? Non c'è. No, questo è il medico. Uh. Scommetto che devo passare di qua. Gelli esclosivo. Ho preparato una serie di sicurezza. Ho sbagliato. Eh, devo ricordarmi i tasti. Era molto più semplice l'opzione di scegliere l'arma senza che il gioco si bloccasse. Questa cosa qua mi ricorda molto Assassin's Creed. Intendo quelli belli, eh. Non le merde come Unity, Assassin's Creed 3, 4, eccetera, eccetera. Intendo l'1, il 2, Brotherhood of Revelation. Quelli erano belli. Senti, ho parlato con Robin e credo che dovresti accettare il suo aiuto. Hai di fronte un intero esercito. Ha ragione. Siamo una squadra. A Gotham serviamo entrambi. Me la cavo da solo, Robin. Ti ho detto cosa devi fare. Fallo e basta. Non adesso. No, adesso. Sai cosa c'è in gioco. Devi rimanere concentrato. O le cose peggioreranno. E anche molto. Non dovresti essere così. No, con Tim. Vuole solo aiutare. Non farmi condizionare dei tuoi sentimenti per lui. Credi che io lo voglia là fuori in pericolo? Preferirei saperlo al sicuro. Ma potrebbe aiutare... Se Robin non salva quelle persone, le conseguenze non saranno meno pericolose della bomba di train. No. Siamo a tre vittime. Questi animali la pagheranno. Li fermeremo. Come sempre, dico bene? Uh, è bello profondo. Ok, Batman. Ti faccio scendere. Vio! Ok, io ti ho fatto scendere. Buona fortuna. Ah no, ancora devo farti scendere. Ancora. Ho la Madonna. Basta, più di così non scende. Ok. Tu, i piedi. Di qua, muoviti. Io, ti prego. Ho detto muoviti. Basta di. Ho le mani di toto. Altri venti? Puoi che mi insegni un po' di educazione? È colpa tua della segna in casa. Ora comportati da uomo. C'è una cosa. Se quel cavaliere sfocata da spunti, crea subito un esercito così grande. Ci dovessi essere più un tipo di cosmi. Allora, perché? Non ne ho mai sentito parlare. Non sono suoi. Ho di ogni super... Valee. Andasso! No! Vai al samurai. E a sto faccia di merda. E ora, Baldrache, ci divertiamo. Tu non porti in vita a nessuno stronzo. No! Non mi toccare. Ecco. No! Spadacino del piffero non mi tocco. No! Sti trucchi qua non funzionano più con me. Ah, ci sei tu? Dai! Dai, dai! Venchi, va! Sayonara, bello! Ora non ho capito che cazzo è successo. È stato tutto così rapido. Tutto bene, amico? Oh. Sei al sicuro? Non hai la più pallida idea, Batman. Mazzate! Ti hanno trasformato in una zampogna. Il stabilimento è attivo da ora. Sono entrati con i camion. Armi, soldati e in più sostanze pericolose. Sapevano cosa stavano facendo. Sta producendo la sua tossina su vasta scala. Sono guai. Guai seri. Parliamo di una nube di gas in grado di coprire l'intera costa orientale. Dov'è lo spaventapasseri? Io... Io non ne ho idea. So solo che sta proseguendo col suo piano e che ha uno stramaledetto esercito. Siamo spacciati, Batman. Lo fermerò io, ma prima ti tirerò fuori. Vai all'ascensore. Mamma mia, è più grave del previsto. Trovato lo spaventapasseri. Non ancora. È peggio del previsto. Quanto peggio può essere? Eh, già. Sta costruendo una bomba che ricoprirà di psicotossina l'intera costa orientale. Porta gli uomini fuori da qui. Vai alla centrale e asserragliatevi. Tieni tutti dentro. Toglierò i miei uomini dalle strade, ma resterò qui. Se trovi qualcuno, portalo da me. Jim, è troppo pericoloso. Lo fermerai? Ne sono certo. Bene, signori. Togliere le mani dai lati e preparatevi a salire. Ma che cavolo. Questo qua mi sta dando un po' fastidio. Dai, forza, salite tutte e due. Alfred. Ho visto, Sir. Le prime scansioni indicano che il velivolo non è pilota ed è telecomandato. Blocco armi disattivato. Falta avanti, eroe. Vediamo se riesce a tenermi testa. Ah. L'hai sentito? È solo il primo di una lunga serie. Oh, quanto sei noioso. Dai, dove sei? Madonna, devo staccare inter il corcatroia. Bene, allora le cose prenderanno una piega molto più interessante. Eh, vabbè. È colpo. Mi piacerebbe essere lì dentro. Quanto ti tratterresti? Parza! Combatti da uomo! Ma la pianti? Ti sto facendo un culo così e tu mi dici che ho fatto l'uomo. Attenzione! Dai, l'ultimo colpo. Ma che cazzo. Ma tommeno questo qua non muore mai! Allora! Allora! Oh, e che cazzo! Ciò, troviamo l'altro ostaccio. Sì, 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 sì. Non ci sono prendati della milizia in tutta la città. Gotham e Ivasa. Non fermo la bomba di Crane. Non ci sarà la città da salvare. A tutte le unità rimaste. E' una posizione finale da venti minuti. Oh, no! Dovete ammazzarlo? Già. Abbiamo l'ordine di tenerlo in vita. Perché? Oh, ma che cazzo! Ma cosa volete fare? Ma cosa volete fare? Ciao, andiamo a salvare l'amico. Dov'è? Eccolo qui. Qualcuno può aiutarvi. Grazie al cielo, sei qui. Ma che... Via, via. Diviniamoci. Ah, guarda chi c'è. Bella tuta. Tenete le armi puntate su di lui. Se vi sembra che stia progettando di uscire dalla stanza, fate fuoco. Ah, e non mirate al simbolo, è solo... è solo un trucco. È il punto più corazzato. Mirate prima i punti deboli nella spalla, quindi aprite il fuoco sulle giunzioni tra le placche. Ti prego. Hai detto qualcosa? Non coinvolgerlo. Sempre a proteggere i deboli e gli indifesi. Ecco cos'amo di te. Sei scontato. È per questo che vinceremo. Possiamo prevedere ogni... Mossa, sappiamo come pensi. Sì, prevedi questo, stronzo. No, è scappato. Batman. Se mi lanci addosso uno di sti qui, posso riuscire ad abbatterlo col cannone da 60 mm. Dai, lancialo Batman, ci penso io. Puncare fuoco! Ho una mira infallibile. Tutto ok, sei in salvo. Sei in ritardo. Siamo tutti spacciati. Sai della bomba che sta costruendo? Sì. Dov'è finito? Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. So cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos. Non lo permetterò. Aspettami alla Batmobile. Ti farò uscire. Jim, il secondo laboratore è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? E al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio. Peggio, Jim. Ma lo fermerò. Hai la mia parola. Oracle, Crane sta preparando la bomba nel miscelatore centrale. Mi serve un modo per entrare. Subito. Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Trovalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti. Non lo sapete. Non in questi casi. Sì, abbiamo capito. La marca della concessionaria Bat. Sono stati fortunati. Gli uomini di Crane hanno ucciso gli altri. Bastardi. Portali alla centrale, ma fai attenzione. Dici, la milizia è in tutta godina. Che cosa pensi di fare? Oracle, devo arrivare allo spaventapasseri. Non c'è più tempo. Questo non ti piacerà. C'è un solo ingresso e pare che sia stato sigillato dall'interno. E il condotto di servizio? Corre sotto al muro portante della struttura. Ti ho mandato la posizione. Cosa pensi di fare? Improvviserò.